Alle nostre spalle la Lancia di Lancia, con Christian Grande, da che cosa è nato questo progetto? Nasce come Maxi Tender, Lancia di Lancia è realizzato da Sax per conto di Lancia, diciamo che le linee si ispirano alle berline di lusso, le berline tipicamente Lancia, la volontà quindi di rievocare questo stile classicamente italiano e anche con l'esigenza di stupire, Lancia chiedeva qualcosa di particolare, di singolare, al di là delle cromie, anche questi passaggi molto cortesi verso prua, quindi un'apertura del parabrezza che invita appunto gli ospiti a bordo a passare a prua senza passare sul fianco della barca, è stata una scelta per riuscire a evidenziare la clientela targhettizzandola verso l'alto. Cosa ti è venuto in mente quando ti hanno detto di disegnare questo tipo di imbarcazione? Innanzitutto un grande piacere perché ci possiamo immaginare il marchio importante e sicuramente anche la possibilità da parte mia di andare a toccare dei concetti di stile complessi e nuovi di fatto. Sicuramente conosco molto bene il campo automobilistico, lo sento anche molto vicino, fra l'altro Lancia è un prodotto italiano, un prodotto che rievoca a tutti noi dei messaggi specifici, quindi non ho null'altro che cercato di immaginare una barca ricordando le emozioni che deve dare a mio avviso una Lancia. Quindi è stata la mia interpretazione, barca di Lancia. Il prodotto comunque è interamente costruito da Sachs? È interamente costruito da Sachs al suo interno. E poi ovviamente i notori sono Fiat, Fiat Powertrain, con trasmissioni. Comunque c'è questa già invenzione fra il gruppo Fiat e Sachs che costruisce e io che l'ho disegnata.